Allora, qui abbiamo il collettore d'aspirazione con i fili dell'aria, la vaschetta dell'acqua del recupero del motore, la vaschetta dove va inserito l'olio, se è un carter dove recupera l'olio motore, questa è la vaschetta dell'olio dell'estero dello sterzo, qui ci sono le testate questo è lo scarico del cicatrice di voi il Grazie. 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 Grazie.